Il fogliato andrà più lungo in dettaglio, in quella sostanza il fatto di non aver aumentato l'Imu di Macario, di non aver tartassato i nostri concittadini ha fatto sì che in una scelta nazionale assolutamente discutibile, poi la terra, l'augmento, chi invece ha aumentato l'Imu è stato oggetto di un ritorno di fondi da parte dello Stato. Bene, c'è già il ministro dell'Italia, mi hanno detto ma voi avete ancora la possibilità di tassazione, pensate che comunicano già le aliquote massime che non possono tassarne. E io credo che la risposta in una maniera sufficiente, quella che qualcuno di voi ha già dato comunicazione. Da quel momento? Credo che ci viene richiesto una cifra come compartecipazione al fondo di solidarietà Imu, una cifra superiore a quella che invece di cui avevamo comunicazione nel sei mesi prima, sei sei mesi prima e viceversa di ritorno a noi ci viene dato qualcosa in meno. La famosa forbice che accennava prima scelta con la differenza di circa un milione.